In questo video andiamo a vedere come si scarica un file da internet usando la linea di comando e giocarelliamo un po' anche con gli archivi compressi. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Tra gli ultimi comandi base che ti voglio mostrare c'è vget, che è un download manager a riliega di comando. Per scaricare un file da internet basta dare il comando vget. A me piace dargli anche l'opzione "-c", per dirgli di completare un eventuale scaricamento interrotto in precedenza. E l'url del file da scaricare. Per sicurezza è sempre meglio rinchiudere l'url del file da scaricare tra singoli o doppi apici. Così se l'url contiene caratteri speciali, per esempio un punto interrogativo, la shell non lo interpreta come carattere di globe. Abbiamo appena scaricato un file con estensione zip e questo è un archivio compresso. Solitamente trovi su internet due tipi di archivi compressi. I file zip e le cosiddette tarball, cioè archivi tar compressi nei più svariati modi. Prima di scompattare un file, è consigliato creare una directory vuota e scompattare il file lì così. Una volta creata la directory, per scompattare un file zip, il comando è unzip, seguito dal nome del file da scompattare. Nota che in questo caso il file zip conteneva un casino di file directory. Se non avessi creato la directory prima di scompattare i file, mi sarei ritrovato la mia home incasinata con tutti questi file directory. Visto che avevo creato la directory in precedenza, ora per cancellare tutti i file scompattati, mi basta semplicemente cancellare ricorsivamente la directory dove ho scompattato i file. Per creare un file zip, il comando è zip, poi io uso solitamente l'opzione meno R per includere ricorsivamente anche le sotto directory, seguito dal nome del file zip che vogliamo creare, seguito dai file e le directory che vogliamo compattare nell'archivio. E vedi che ha creato l'archivio free1.zip che contiene anche le sotto directory di quello che gli abbiamo specificato. Piccola parentesi, ora cambio l'estensione al file appena creato di modo da non essere più in grado di sapere che tipo di file è free1.roba. Come faccio a sapere che tipo di file è un file indipendentemente dalla sua estensione? A nostro soccorso c'è il comando file che determina il tipo di un file in base al suo contenuto. E vedi che nonostante l'estensione non corrisponda, ha determinato correttamente che si tratta di un archivio zip. Passiamo ora agli archivi tar. Per estrarre un archivio tar, il comando cambia leggermente a seconda del metodo di compressione utilizzato. Per esempio, per scompattare una tarball compressa con gzip, basta dare il comando tar con le opzioni x che significa estrazione, v che significa darboso e quindi mi mostra sul terminale tutti i file estratti, z che significa compresso con gzip, f che significa che il prossimo argomento è il file da estrarre, seguito per l'appunto dal file da estrarre. In questo caso, il file Brotley.tar.gz Stai notando una stranezza in questo comando? Bravo, manca il trattino meno prima delle opzioni. Questo è dovuto a ragioni storiche, dove il comando tar dei vecchi Unix si comportava in maniera differente agli altri comandi e non voleva il trattino prima delle opzioni. La versione GNU di tar, inclusa in praticamente tutte le distribuzioni Linux, è compatibile con il comando tar dei vecchi Unix e quindi accetta le opzioni senza trattino, ma volendo, per coerenza, accetta anche un trattino prima delle opzioni. Ad ogni modo, eseguiamo questo comando. Cancello subito la directory appena scompattata giusto per fare pulizia. Per creare una tarball, basta sostituire l'opzione X con l'opzione C. Dopo il nome dell'archivio da creare, basta mettere i file e le directory che vogliamo compattare nell'archivio. Ovviamente possiamo usare Globe Brace Expansion a nostro piacimento. Nota che ha aggiunto ricorsivamente tutte le sottodirectorie senza bisogno di specificare opzioni particolari. Visto che ora va di moda la compressione ZStandard, vediamo il comando per estrarre un file tar ZST. Prima di tutto, occorre avere il pacchetto ZST installato. Partiamo sempre da tar. Diamogli l'opzione "--ZSTD". Poi, visto che abbiamo usato un'opzione lunga, questa volta è fondamentale mettere il trattino prima delle altre opzioni. Quindi "-x per estrarre", "-v verboso", "-f file d'estrarre", in questo caso GMP. Per creare una tarball compressa con ZStandard, basta come prima sostituire l'opzione "-x con c", ma non te la sto a far vedere, tanto hai capito la solfa. Come sempre, se vuoi maggiori informazioni sull'opzione da dare ai vari comandi, basta guardare la manpage del comando che ti interessa. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao! In questo video andiamo a vedere come si carica un file da internet. Sì, buonanotte. Attraverimenti in descrizione. Ciao! Ciao!